Conta ormai più di 400 iscritti in tutta la Sicilia il Comitato Anticrisi Agricoltura che domani mattina porterà le rivendicazioni del settore direttamente sul tavolo del presidente della regione Nello Musumeci. È stato proprio il governatore a volere questo secondo incontro dopo il primo dell'aprile scorso e al tavolo siederanno anche l'assessore regionale all'agricoltura e di bandiera. Il sindaco di Vittoria Giovanni Moscato ci ha confagricoltura col diretti i rappresentanti della GDO. In forse la presenza dell'assessore alle attività produttive Girolamo Turano. Il Comitato partito dalla provincia di Ragusa e che si sta ramificando in tutta la regione da Siracusa a Campobello di Licata da Messina a Niscemi e Pachino sarà rappresentato dai vittoriesi Angelo Giacchi e Salvatore Di Bona e da Sebastiano Cinnirella di Pachino. È la prima volta che i produttori hanno la possibilità di sedere a questi tavoli istituzionali regionali senza passare attraverso la mediazione di sindacati e confederazioni, commenta Giacchi. E poter presentare direttamente le nostre istanze riteniamo sia un fatto fondamentale. Chi meglio di chi li vive sulla propria pelle conosce i problemi del mondo agricolo? La nostra piattaforma rivendicativa, spiega, è molto ampia e parte dai controlli nei porti e alle frontiere fino agli scaffali dei supermercati, passando per le richieste di risarcimento dei danni fino alla modifica dei trattati europei che ci penalizzano. Siamo nati da poco, continua, ma siamo già riusciti a chiedere la rateizzazione dei contributi INPS e su questo ci aspettiamo domani una risposta da Musumeci che ha avuto un incontro con il presidente Boeri. Ci attendiamo anche una comunicazione relativa ai 10 milioni inseriti nella finanziaria come risarcimento per i danni provocati dall'ondata di maltempo del novembre scorso. Adesso che ci sono i soldi, conclude Giacchi, la cosa importante è seguirne l'iter per essere sicuri che arrivino davvero nelle tasche dei produttori e non si perdano come quelli del ciclone Atos. Ed intanto resta davvero difficile la situazione dei prezzi al mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello a Vittoria. Il pomodoro va dai 20 ai 50 centesimi e molto resta invenduto. La melanzana si aggira sui 30 centesimi, il cetriolo tra i 20 e i 30 regge un po' solo la melanzana venduta ad un euro.